Il digitale è quando i giornali cominciarono a finire, quelli di Palermo, perché venivano i rotocalchi dal nord, perché la gente assumeva le informazioni dalla televisione, da internet. Come è nata l'idea di ripercorrere questa strada, anche forse un po' a ritroso, quindi dall'era digitale tornando al dopoguerra? Non mi vergogno di dire che è nata, perché io siccome verso i 22-23 anni pensai che mi piaceva scrivere nei giornali e cominciai a scrivere sui Vespri d'Italia, molti li ho conservati, molti li ho conservati, quindi partendo da quelli conservati e poi andando nelle biblioteche a cercare gli altri, ho pensato che era un orizzonte che poteva ben far parte dell'immagine di Palermo dopo guerra che do nei primi tre capitoli, Palermo piena di bombe, Palermo povera, Palermo con i sociologhi e le sociologhe che venivano dal nord a insegnarci come si doveva vivere, la calza dove nascevano bambini ed erano poverissimi. Guardi se ne dico la cosa che mi ha un po' impressionato è stata questa, che quello di matrice post-fascista, non dico fascista perché il fascismo finisce, inizia con un articolo in cui il direttore dice in quanto al fascismo è chiuso, è finito, volerlo riesumare sarebbe anacronistico e allora mi sono detto ma caspita, i fascisti stessi lo dicevano e ora dopo 70 anni andiamo a ripescare. Credo che l'intento deve essere sempre quello di suscitare la curiosità del lettore, soprattutto nel fare i titoli, nell'iniziare con le parole e fargli venire una curiosità perché come ho detto a qualche editore di piccoli giornali che io ho fatto, io non ho fatto, è importante, e dico un articolo dove ci metti un trattato di teologia e non lo legge nessuno, era meglio non mettercelo. Una cosa che notavo era che i giornali domani, Sicilia domani, erano pieni di pubblicità, della Montedison, dell'Eni, delle banche, perché era la democrazia cristiana e la democrazia cristiana era forte, era potente in quel periodo, anche questo osservo, guardando retrospettivamente. L'ultimo per esempio è interessante ed è Voce Nostra, quello cattolico, dove noto che in effetti raccoglie la voce di quelli che si chiedevano ma noi la Chiesa ci fa votare, ci induce a votare per la democrazia cristiana, ma la democrazia cristiana è veramente portatrice di valori cristiani ancora. A chi è rivolto, secondo lei, questo libro? Perché dire a tutti sarebbe come dire a nessuno. Guardi, ai miei concittadini, se ce ne sono ancora della mia età, perché ricorderanno quei periodi. A quelli giovani venuti dopo, nati dopo il 50, il 60, come fargli una sorpresa, e dirgli guarda, tu pensi che tutto è andato come va ora. Invece guarda che era così a Palermo, i giornali erano modesti, eppure si vendevano.